Il Brindisi torna alla vittoria. Basta una rete di palumbo nel finale di primo tempo a concedere i tre punti alla formazione brindisina contro il panalino di coda Putiolana. La prima parte di gara è giocata a ritmi bassi. Non concedono spazi le due difese, a fatto eccezione di alcuni cross che non trovano nessuna deviazione sotto misura. Al ventiquattresimo la prima opportunità per il Brindisi. Colpo di testa di Staucius. La parla termina sul fondo poco dopo la mezz'ora. Occasione per Sirri. Sempre una deviazione aerea. Lamberti è attento e blocca la sfera. Il cross al trentaduesimo di Della Corte è l'unico pericolo della Putiolana nel primo tempo con la deviazione di Vismara. Al trentaquattresimo. Prima occasionissima per il Brindisi. Tre tentativi. Prima ci prova Cancelli. Poi Staucius. Alla fine Malaccari. Tutti e tre i tiri vengono respinti con il corpo dai difensori campani. Due minuti più tardi su calcio d'angolo. Malaccari a deviare. Prima respinta. Il secondo intervento è prodigioso. L'intervento di Lamberti che manda la sfera ancora in corner. Al trentanovesimo si sblocca il risultato. Inserimento di Palumbo che con un tocco sotto anticipa l'uscita del portiere avversario e deposita la sfera in rete. La ripresa parte subito con il Brindisi che potrebbe chiudere i conti. All'undicesimo. Ripartenza di Dammacco dalla sinistra. Si accentra il numero dieci bianco azzurro. Il tiro a girare viene respinto dal palo. La putiolana fatica a reagire. Il Brindisi controlla gli spazi e non concede occasioni. Per segnalare un'opportunità campana bisogna attendere il quarantatresimo con un insidioso colpo di testa di Iada Resta che termina sul fondo in pieno recupero. Poi ci prova con la forza della disperazione dal limite Abenborg. La sfera termina debolmente sul fondo. Il Brindisi non sfrutta alcune ripartenze. Il risultato non cambia e alla fine contano i tre punti che il Brindisi conquista.